In studio però adesso vorrei dare il benvenuto a un ospite per il quale siamo particolarmente orgogliosi e fieri. Lui è un luminare della medicina, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. E' con noi il professor Silvio Garattini. Buonasera prof, grazie per averci raggiunto. Io posso già sedermi? Grazie, ecco, prego, prego, sediamoci. Allora, innanzitutto professore, lei è già cittadino onorario di Macondo, per cui assolutamente per noi è importantissimo averla qua questa sera per fare insieme a lei dei ragionamenti. Però prima di tutto, e le devo fare la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, ce l'ha una sua Macondo? Un posto dove vorremmo vivere ideale e utopico? Sì, fa parte di quello di cui mi occupo, cioè vorrei avere un ambiente in cui tutto è sistemato in modo tale da giovare alla salute. Perché la salute è il bene principale che abbiamo e quindi dobbiamo cercare di ottenerlo non solo attraverso quello che noi possiamo fare per migliorare la nostra situazione, ma anche perché l'ambiente ha una grande importanza per la salute. Quindi una città in cui ci si occupi a fondo di salute sarebbe il Macondo ideale. La sua Macondo, ovviamente. Cosa vuol dire per la nostra salute, per il corpo umano, vivere a una temperatura così elevata? Adesso l'esperimento parlava di 50 gradi, ma insomma in una maniera costante, non una giornata. Vuol dire avere un mucchio di problemi e quindi dobbiamo in qualche modo pensare a come si può evitare questa situazione. Come si può prevenire. Come si può prevenire attraverso una preparazione di tutto ciò che può aiutare. Alcune cose le hanno dette. Noi abbiamo visto che cosa vuol dire, se prendiamo l'esempio della pandemia, non eravamo preparati, non siamo preparati neanche oggi, se ne viene un'altra. Quello che bisognerebbe fare è avere a disposizione in anticipo tutto quello che serve. Se noi avessimo avuto ospedali o comunque luoghi che non si utilizzano, tutte le apprezzature e tutto quello che serve avremmo al momento arginato e avremmo evitato un altro problema. Perché noi abbiamo avuto soltanto la mortalità da pandemia, ma abbiamo avuto anche la mortalità di quelli che non si potevano curare perché... Delle altre malattie, chiaro. Perché gli ospedali erano... Perché gli ospedali... Inavvicinabili. Mi scusi, la interrompo solo per chiedere... Quindi lei mi sta dicendo che questo scenario che noi stiamo vedendo e che stanno facendo questo esperimento a Parigi non è fantascienza. Cioè è una cosa... No, nessuno può escludere. Nessuno può escludere. E credo che dovremmo prepararci. Cioè dobbiamo prepararci a una serie di emergenze se non avvengono tantissime. Ma è quello che già facciamo. Perché, per esempio, noi abbiamo un esercito, abbiamo delle corazzate, abbiamo degli apparecchi, dei missili che non usiamo. E li teniamo lì soltanto nel caso in cui venissimo attaccati. Quindi lei dice dal punto di vista bellico siamo preparati, dal punto di vista di salute pandemico no. Mercalli, tu peraltro, Luca, dicevi una cosa del genere. Nelle puntate scorse mi avevi detto che la cosa importante è essere pragmatici. Cioè non parlare di cambiamento climatico così teoricamente. Parliamo di... Beh, Parigi ha già subito temperature oltre i 40 gradi. Il primo impatto con queste temperature tropicali così a nord in Europa è stato l'estate del 2003. Quando a Parigi si toccarono per la prima volta i 40-41 gradi, 70.000 morti di colpo di calore nell'estate 2003. A Parigi? No, in tutta l'Europa occidentale, compresa l'Italia. Ce ne furono più di 20.000 in Francia. E l'estate del 2022 ne ha fatti altri 61.000. Quindi, vedi, è un problema reale, di cui abbiamo già dei numeri su cui lavorare. E siccome il riscaldamento globale andrà avanti, dai 40-42 di oggi si passerà sicuramente ai 45, tra una decina d'anni, e si può arrivare a 50 gradi verso la metà di questo secolo, che sono delle temperature che sul pianeta oggi abbiamo già in pochi posti al mondo per pochi giorni, tipo Dubai, tipo il Pakistan, tipo l'India. Ecco. Allora, peraltro, a proposito della Francia, deve sapere che uno dei libri che ha venduto maggiormente l'anno scorso in Francia, pensi in un anno più di mezzo milione di copie, è stato un fumetto che si chiama La vita senza fine, si chiama Il mondo senza fine, scusate, di Yankovici e Blanc. E, insomma, è molto interessante, perché parla di ambiente che, insomma, in Italia sembra essere, come ben ci accorgiamo anche noi qua, ma con un argomento un po' ostico e difficile da far passare, mezzo milione di copie vendute. Bravi i francesi. E, a proposito di libri di successo, eccolo qua. Adesso vorrei parlare un attimo del suo Prevenzione e rivoluzione per vivere meglio e più a lungo. dove lei scrive in questo libro, Edito il mulino, che l'Italia è uno dei paesi con il più alto, diciamo, grado, tasso di aspettativa di vita alla nascita. Però questa cosa, lei scrive, ha due facce questa Italia. Esatto, perché siamo certamente a buon livello da questo punto di vista, ma se noi guardiamo quello che ci interessa, cioè la durata di vita sana, noi dal primi posti scendiamo al quindicesimo posto, perché abbiamo tutta una serie di malattie che avvengono nella parte, diciamo, della più alta della nostra vita, a partire, diciamo, dai 65 anni in più, che è, diciamo, l'età in cui si comincia a considerare qualcuno anziano. Ecco, la soluzione sta nella prevenzione. Perché questo, secondo lei, è una rivoluzione? Sembra un gioco di parole, ma è... Non è un gioco di parole, perché noi abbiamo dato grande attenzione alle cure, e questo è giusto, ci sono degli ammalati, bisogna curarli, e abbiamo fatto progressi in tutti questi anni. Abbiamo farmaci che prima non avevamo, abbiamo trattamenti di ogni tipo che ci aiutano. Però molte di queste cure sono inutili, perché le facciamo su malattie che sono evitabili. Incurabili. Evitabili. 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 Cioè, noi ci occupiamo tanto di cose che possiamo evitare. Faccio un esempio. Abbiamo 3 milioni e 700 mila diabetici. Il diabete è una malattia evitabile, non è che debba avvenire, ma è una grave malattia, perché poi dal diabete ci sono molte complicazioni. Complicazioni visive, complicazioni cardiovascolari, complicazioni renali, eccetera. Noi basterebbe stare attenti a tre grandi fattori di rischio, che sono, prima di tutto, l'alimentazione. Mangiamo troppo, dobbiamo mangiare poco, e dobbiamo mangiare quello che è importante, dare la prevalenza ai vegetali, eccetera, eccetera. Tutto quello che noi sappiamo, ma che non facciamo. Poi, diciamo, abbiamo bisogno di movimento. Sport, attività fisica. Questa è una seconda cosa. Muoverci, camminare, girare, fare dello sport, fare tutto quello che è necessario per aumentare la nostra attività fisica e poi mantenere il peso ideale. Noi siamo il paese in cui abbiamo la maggior percentuale, rispetto all'Europa, di persone sovrappeso e obese. L'Italia? Certo, sia nella parte iniziale, sia nella parte finale della nostra vita. Questo lo stupisce, Mercalli. La nostra dieta mediterranea, il cibo italiano e poi... Ma noi stiamo copiando altre diete. Stiamo copiando, non abbiamo più la dieta mediterranea, ce la siamo dimenticata. Cioè, quello che avevamo di buono... ma pensi che perfino quasi il 50% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumori in Italia. Quindi si pensi a tutto quello che potremmo fare in termini di miglioramento. E questa è la rivoluzione. Allora, sicuramente cambiare le nostre cattive abitudini, il fumo, l'alcol, perfetto, esatto, sport, cibo... Però, dato che a Macondo noi parliamo, insomma, di ambiente, no? Ecco, quanto il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo impatta sulla nostra salute? Il cambiamento climatico è importantissimo perché noi, di nuovo, siamo uno dei paesi che ha il maggior numero di quelle particelle che chiamiamo PM2,5, che sono le particelle danose che derivano da molti fattori. Per esempio, lei ha citato prima il fumo, noi utilizziamo 17.000 ettari in Italia per coltivare tabacco, cioè per coltivare un veleno. Siamo il paese in Europa che coltiva il 25% di tutto il tabacco che si coltiva in Europa. Non solo, ma proprio perché coltiviamo tabacco non utilizziamo questo terreno per fare foresti, per esempio, o per coltivare cibo, il che avrebbe un grande impatto sull'ambiente. Ma poi il tabacco viene utilizzato, abbiamo 12 milioni di fumatori e noi, questi fumatori, fumano magari andando a protestare perché l'ambiente è inquinato. Attenzione, ragazzi, questa è una stilettata a voi, giovani. Magari protestate con la siena. Andate al venerdì a protestare per il clima. E questo fanno bene. E fanno bene. Friday for Future. Benvenga, ma non andateci con la sigaretta o con la bottiglia di... Bravo, prof. Bravo. Allora, scusi, rispetto a questa cosa che sta dicendo, cambiare quindi il nostro approccio verso l'ambiente, no? Sì, certo. Basta, non fumiamo più. È già considerato, potrebbe essere considerato una forma di prevenzione? È certamente una grande prevenzione. Lei pensi che ogni anno ci sono 43 miliardi di sigarette che vengono fumate. Pensi a tutti i veleni che girano e 43 miliardi di mozziconi che vanno nel terreno e che andranno poi nell'acqua, che andranno nel cibo, che andranno dappertutto. Certo. Quindi questa sarebbe una grande forma di prevenzione. Però lo Stato purtroppo non si interessa perché prende 14 miliardi di euro di tasse. Perché ci sono degli interessi sotto, come spesso vediamo. Esatto. Professor Garatteri, adesso però, torniamo alla nostra vita quotidiana di Macondo, perché ci sono cose su cui noi possiamo intervenire, cose su cui non possiamo intervenire, come ad esempio... Però su questo possiamo intervenire perché... Guardi, io le faccio conoscere una famiglia che questa sera sono venuti in coppia, ma hanno dei figli a casa, che stanno facendo questo. Cioè nel loro piccolo, nel loro quotidiano, cercano di vivere una vita a basso impatto, una vita sostenibile. E quindi facendo questo in qualche modo loro agiscono e fanno da modello alla nuova generazione che sono i loro figli. Allora saluto Linda Maggiori e Giovanni Angeli. Buonasera. Da Vicenza, venite voi lì? Faenza. Da Venezia. Venezia, ecco. Allora, voi avete fatto questa scelta di vita, no? di vivere in maniera sostenibile, a basso impatto. Voglio sapere qual è stata la cosa più difficile a cui rinunciare. Allora, possiamo dire che è stato il vivere senza auto. Nel senso che ormai da 12 anni noi non abbiamo più un'auto di proprietà e abbiamo quattro figli. e all'inizio è stata una scelta, non una vera e propria scelta, nel senso che è stata una cosa appunto che ci è capitata, un incidente, l'auto distrutta, e lì per lì abbiamo aspettato a ricomprarla qualche mese più per motivi economici. Poi in realtà, passando un po' del tempo, ci è piaciuto questo stile di vita, nonostante ci fossero appunto delle difficoltà, ma proprio perché i motivi aumentavano, per rimanere senza auto ed erano motivi appunto ambientali, quindi non contribuire all'inquinamento della nostra città, che comunque si trova nella pianura padana, uno dei luoghi più inquinati d'Europa, dare anche salute ai nostri figli, perché comunque questo stile di vita ci permetteva comunque di muoverci di più in bicicletta, a piedi, eccetera, e non contribuire quindi all'inquinamento che poi i nostri figli respirano. E poi anche motivi appunto etici, di spazio, dare più spazio alle persone, dare più spazio alle bici, ai pedoni, ai bambini per giocare, no? Perché le nostre città vediamo che sono sature di auto. Ecco, voi avete quattro figli, corretto? Sì. Di cui uno 14 e l'altro 13, se no? 15, 13. 15 e 13, ecco. Esatto. Cioè, insomma, un'età dove iniziano a fare delle richieste concrete, voglio il motorino, voglio... Riuscite veramente a tener botta? Allora, noi... Parte il mio applauso personale, perché... Allora, noi diciamo che abitiamo in città, in questa cittadina, diciamo, Faenza è una media città, e siamo più o meno vicino un po' a tutto, quindi i ragazzini vanno autonomamente a scuola in bici, allo sport, dagli amici, eccetera. E quindi, per fortuna, il motorino non è necessario. È ovvio che ci sono degli amici che magari abitano più in campagna o in paesi più sperduti e allora magari ce l'hanno. Però effettivamente il fatto di vivere comunque abbastanza centrali evita in qualche modo questa necessità. Poi, più avanti, ecco, una delle cose che però probabilmente hanno imparato anche dal vivere, insomma, tutti questi anni senza auto è che comunque è importante anche la condivisione. Cioè, non è... Noi in Italia siamo concentrati sul fatto che bisogna avere un'auto privata, no? in realtà, qui vedo tanti giovani, e in realtà non è così magari in altri paesi. Sì, insieme. Aspetta, Linda, che il prof sta dicendo una cosa? No, lo dico, basta mettersi insieme per cambiare una macchina per tante cose. Quindi bisogna un po' tornare alla vita di comunità? Certo, certamente, certamente. Ah no, io... Ci sono già molte organizzazioni che aiutano a fare questo tipo di, diciamo, di viaggi. Cioè, io devo andare a Genova e lo dico che devo andare a Genova. Ci sono tre o quattro altre persone che sono andati a Genova e vanno tutte con la stessa macchina. Certo. Car sharing, car pooling. Sì, tutte cose che si possano, insomma, condividere per evitare lo spreco. Giovanni, al volo, una domanda. So che voi, adesso poi parleremo di cibo, voi riuscite a fare tantissimo cibo? Cioè, voi lo fate, lo producete voi? È corretto? Posiamo un po' di autoproduzione, ma soprattutto l'India che si occupa dell'orto, però non entro tanto nel suo orto perché dopo entriamo in competizione. In realtà, cerchiamo di adottare delle abitudini nella vita quotidiana in tutti i giorni che ci permettono, ad esempio, per diminuire il nostro impatto sull'ambiente nel ridurre la produzione di rifiuti. Quindi, acquisti in quei luoghi dove possiamo comprare prodotti sfusi o in contenitori vuoto a vendere. Certo, senza dover per forza ogni volta comprare l'imballaggio. Ah, poi io so che si fanno anche l'energia. Si fanno l'energia loro? Sì. Mercalli, com'è che sei più preparato di me? Beh, beh... Allora, allora... Nell'ambiente girano queste notizie. Allora, su questa domanda ci fermiamo per un minuto, uno, 60 secondi, torniamo tra pochissimo insieme ai nostri ospiti, continuiamo la chiacchierata. E anche altri ancora stanno per arrivare. Bentornati in diretta 22-23. Siamo negli studi della RAI di Corso Sempione. Macondo, terza puntata. Siamo insieme al professor Garattini. C'è sempre Luca Mercalli e ancora altri ospiti che stanno per arrivare. Stiamo quasi in conclusione della nostra chiacchiera. Allora chiedo a lei, prof, come facciamo a far partire la nostra rivoluzione? Come si fa? Beh, la rivoluzione parte attraverso... Deve essere una rivoluzione culturale, quindi non può che partire attraverso la scuola. Noi abbiamo una grande carenza nella nostra scuola perché si parla di tutto, ma non si parla di salute. Si parla di tutto, ma si parla sempre del passato. La nostra è una scuola del passato. Studiamo la storia, la filosofia, della letteratura, dell'arte. Noi, che è molto importante per sapere dove veniamo, però dobbiamo anche sapere dove andiamo. Per sapere dove andiamo dobbiamo proprio occuparci di problemi di salute. Vogliamo andare verso un mondo migliore, vogliamo andare verso un mondo in cui c'è più salute. Ci sono molte esperienze che si fanno in giro per il mondo. per esempio, si parlava prima della Francia. In Francia, per esempio, si fanno tre cose, soprattutto nelle scuole elementari. Per esempio, si fa in modo che i bambini, guidati naturalmente da chi lo può fare, siano loro ad avere dei piccoli orti in cui seminano, in cui fanno crescere e in cui raccolgono e vedere le verdure. Ci si interessa le verdure. Poi ci sono invece altri gruppi in cui sempre nella scuola c'è una piccola cucina e i ragazzi devono cucinare determinati vegetali. Se li cucinano loro, hanno più interesse a mangiare. Hanno un altro gusto. Hanno un altro gusto, si affezionano. E quindi questo è molto bello. Per esempio, un'altra cosa che fanno gli studenti di medicina, in Francia, hanno l'obbligo di andare a parlare con i ragazzi delle scuole medie. Perché intanto imparano a parlare con la gente che è molto importante. Ma poi soprattutto aiutano i ragazzi a capire i problemi. A noi basterebbe che ci fosse, questo possiamo insistere tutti perché si faccia, basterebbe un'ora alla settimana in tutte le scuole per fare divulgazione da parte di persone preparate per questo scopo. Cambierebbe completamente il nostro mondo, cambierebbe tutto e la prevenzione diventerebbe la cosa fondamentale. Cioè, la rivoluzione sta nel fatto che invece di pensare sempre e soltanto al mercato, perché anche la medicina è diventata un mercato, invece dobbiamo porci al mercato evitando le malattie che non piovono dal cielo ma che sono evitabili. Grazie mille, professor Garattini. Ora, lei ci scuserà, lei ci scuserà, ma noi ci siamo diciamo, presi la libertà di omaggiarle un mazzo di fiori perché sappiamo che domani è il suo compleanno. Sono tanti. Sono tanti. Se lo vuole dire lei io non lo dico ma sono tanti e sono portati davvero molto bene. Sono 95. 95 anni. Arrivarci, professor Garattini. Grazie, molto semplice. Davvero grazie. È stato un piacere. Faccia attenzione ai guardi, faccia attenzione qua. Grazie, professor Garattini.